C'è arrivata la notizia che l'incontro presso il Mise è stato spostato a lunedì 9. Da un mese vivono di fronte alla loro fabbrica chiusa per difendere il loro posto di lavoro. L'attesa di conoscere il proprio futuro è però destinata ad allungarsi ancora di qualche giorno per i 56 dipendenti della Exo di Maserat, il cui destino lavorativo è messo fortemente a rischio dalla volontà dell'azienda, di proprietà del gruppo americano Crocs, di delocalizzare in Bosnia e Herzegovina. Al presidio il conto alla rovescia per l'incontro fissato al Ministero dello Sviluppo Economico era quasi terminato quando è arrivata la notizia di uno slittamento alla settimana prossima. Trascorrere un mese senza lo stipendio per tutti è difficile. La vita qui com'è? Come passano le ore? Le giornate sono lunghe, le ore sembrano interminabili, però ci facciamo forza, ci diamo coraggio l'una con l'altra insomma tra di noi colleghi, insomma pensiamo al meglio di affrontare le giornate così. Il presidio è iniziato un mese fa, quando come un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia dei licenziamenti. Ma qui a volte le ore trascorrono così lente che ad alcuni sembra di aver passato sotto questa tenda due o forse addirittura tre mesi, divisi tra la preoccupazione del proprio destino e le tante piccole cose che si devono affrontare vivendo di fronte al luogo in cui per tanti anni si è venuti a lavorare. È impegnativo perché durante il giorno la temperatura è abbastanza elevata. La notte, chi non è abituato a fare la notte ha qualche difficoltà, però continuiamo questa lotta.